signori buongiorno da san cristoforo allora noi senza offesa il il virus corona l'abbiamo sconfitto dite come siamo tutti in piazza a noi non fa paura il virus guardate san cristoforo ragazzi guardate san cristoforo repubblica repubblica guardate che faccio un affare il nuovo virus ti rendo conto abbiamo anche i ragazzi di colore gli extracomunitari tutti presenti a noi il virus non fa niente ma squarate non città sull'intelligenza che c'è a san cristoforo i figli d'aereo sono tutti fuori non è che si non vanno in casa questi bastardi no e poi ci miscono le mogliere ci miscono i figli i figli ci miscono i compagni così si è spazio lei cosa ne pensa scusi lei cosa ne pensa del coronavirus lei che aveva la mascherina lei che aveva la mascherina perché non si stacca che spazio sta facendo qua ecco gli risotti per i veri ecco gli risotti lei lei che sta facendo qua perché non va a casa ma non morono tutti ecco ma abbiamo tutta la famiglia palocco presente tutti un grande saluto a Roberto Sucalora ecco guardate ragazzi l'ordinanza del presidente del consiglio ci fa un baffo a noi conte guardate questo signore mi disse una volta perché io farò la casa io mi sentivo avanti buonasera a tutti grazie Grazie a tutti